Ciao a tutti cari amici della Sporting 3 Basket, siamo con il nostro capitano Marco Colombo alla visilia di una sfida, direi, importantissima per la stagione. Siamo arrivati fin qui con merito, il tabellone è stato anche favorevole ma poi quello che conta è quello che accade in campo perché questa sera alle 21.15 si gioca la finale del tabellone blu della Coppa Lombardia che dà l'accesso alle Final Four di Coppa Lombardia e sfida che verrà tra le muro amiche del Palabesiglio 21.15 contro Basket Corsico. Partiamo da qui Colo. Sì come hai detto tu è quello che conta, è quello che succede in campo quindi dobbiamo scendere la nostra partita senza pensare che magari loro giocano la categoria sotto perché poi una partita in sconto diretto non conta niente la provenienza della categoria e quindi dobbiamo scendere la testa giusta e cercare di andare avanti per arrivare bene un po' è la classica partita da winner go home. Certo che sì, è una classica partita decisiva di pre-off quindi dobbiamo giocare come se fosse appunto una o un'altra di pre-off. Di partite del genere comunque nella tua carriera ne hai giocate parecchie o comunque partite decisive cosa ti senti di dire ai tuoi compagni? Niente come dici tu è winner go home quindi non credo che ci siano motivazioni da dare oltre a questo spot nel senso vince vai a calma e questa è che motivazione deve avere la sola non c'è nessuno che te le deve dare, te le deve iniettare. Quanto può essere importante anche ritornare in campo a pochi giorni da sconfitta coccente con Nerviano? Beh, è coccente, è stata una sconfitta e comunque certo non fa mai piacere di perdere però visto come era finita l'andata alla fine credo che dobbiamo prendere il bicchiere, le cose positive che abbiamo fatto per vedere il bicchiere in mezzo pieno secondo me perché comunque rispetto alla figuraccia che ha fatto l'andata ce la siamo giocata eravamo lì punto a punto fino agli ultimi minuti quindi la strada secondo me è quella giusta. Ecco, una strada giusta, un periodo comunque positivo perché prima della sconfitta con Nerviano eravamo reluci da ben tre vittorie consecutive di cui proprio quella in semifinale contro me games di Coppa Lombardia. Nella gara di questa sera che cosa servirà esattamente? Servirà lucidità, servirà avere la testa giusta per giocare come già detto prima partite dentro e fuori. Non ci resta che ringraziarti capitano ovviamente l'appuntamento è questa sera alle 21.15 al Palabasilio invitiamo tutti i nostri tifosi a venirci a vedere perché è una partita importante e quindi abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Assolutamente. Grazie. 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 Grazie.